Napoli, il grande cuore per il rider rapinato, fermati i componenti del branco che avevano picchiato e rapinato dello scooter un cinquantenne disoccupato. Scatta la gara di solidarietà, lui ringrazia, sono commosso, l'azione violenta condannata dal sindaco De Magistris, pagina indegna. Bionde dall'est Europa, sgominata la banda, maxi operazione della finanza di Napoli contro il traffico di sigarette di contrabbando, eseguite 13 misure cautelari tra Napoli, Caserta, Firenze e Ravenna, indagini durate due anni, sequestrato un carico di 5 tonnellate. Si accelera per i vaccini, ma è caos sulla scuola. La regione Campania è tra le prime in Italia, con oltre 10.700 dosi somministrate, ma emergenza a Barelli al pronto soccorso dell'ospedale del mare, incertezza sulla riapertura delle scuole, De Luga prepara un calendario diverso da quello del governo. Covid nel Sannio, ancora morti e nuovi contagi, registrate due vittime a Benevento nei reparti del Fatebene Fratelli e del Sampio, tornano a crescere in maniera preoccupante i positivi, mentre si prosegue spediti nella campagna vaccinale. In Irpinia protestano i dentisti. Salerno testa rapidi, ricordando Melissa, l'associazione nata dopo la tragica morte della sedicenne uccisa a scuola da un attacco cardiaco, ha organizzato tamponi anti-Covid gratis per i cittadini di San Mango, Piemonte. Intanto il virus uccide un 84enne di eboli. Avellino, allarme e smog, ora basta veleni, iniziativa simbolica, stamane delle associazioni ambientaliste per denunciare l'inquinamento in città. 130 scoramenti registrati nell'ultimo anno, appello alle istituzioni, serve maggiore attenzione. Buon pomeriggio, ben ritrovati con l'informazione regionale del canale 696. Andiamo subito a Napoli. La rapina ai danni di un rider di 50 anni ha scatenato una grande gara di solidarietà nella città per ricomprare la moto a Gianni Lanciano. Lui si dice commosso, ma chiede un lavoro degnitoso. Vediamo. Ringrazio tutti per la solidarietà, ma io vorrei solo un lavoro stabile e vivere tranquillamente. Così Gianni Lanciano, 50 anni, sposato con due figli. Il rider che l'altra sera, accalata a Capodichino a Napoli, è stato avvicinato e aggredito brutalmente da sei giovani che gli hanno portato via lo scooter con il quale stava facendo le consegne. Se io lavorerei fosse la cosa più meglio, un lavoro degnitoso, come ho sempre avuto, è che l'ho perso. Nel 2015 ho perso il lavoro, sono già cinque anni, che è il sesto anno che sto qua, e sono così, per arrangiare e fare qualcosa. Rabbia e dolore nelle sue parole, ma anche tanta amarezza. Nonostante tutto mi dispiace per quei ragazzi, che erano ragazzini, ragazzini. Ho pensato quanta crudetà, perché fanno così? Non dovrebbero fare così. Intanto sono cinque, giovanissimi, identificati e portati in questura, tra questi anche minorenni, ed è stato anche recuperato lo scooter. E sui fermi interviene il governatore della campagna, Vincenzo De Luca, che dice la risposta dello Stato è stata immediata nei confronti dei responsabili. Un gesto gravissimo quello avvenuto contro chi con grande difficoltà sta affrontando la crisi. Francesco Borrelli dei Verdi commenta Sono dei vigliacchi. L'aggressione è una pagina indegna e criminale, ha scritto il sindaco Luigi De Magistris. Mentre la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, parla di immagini agghiaccianti. Sullo sfondo, la gara di solidarietà, attraverso una raccolta fondi online, che nelle sole prime tre ore ha superato gli 11.000 euro. Tra le donazioni, quella record del calciatore della Lazio, Mohamed Fares, che ha donato 2.500 euro. Sigarette di contrabbando, maxi operazione della Guardia di Finanza di Napoli. Arrestate 13 persone dell'Est Europa. Le indagini, durate due anni, hanno portato al sequestro di 5 tonnellate. Vediamo. Scacco alla banda del contrabbando di sigarette. Eseguite 13 misure cautelari, l'operazione, denominata Red Queen, messa a segno dalla Guardia di Finanza di Napoli, è riuscita a scoprire un'organizzazione dedita all'importazione di bionde dall'Est Europa. Sono state sequestrate 5 tonnellate di tabacchi, garage e autoveicoli. Per 4 di loro sono scattati gli arresti domiciliari e 9 obblighi di presentazione alla Polizia Giudiziaria. A questi si aggiungono altri 6 persone nei cui confronti è stato notificato l'avviso della conclusione delle indagini. Le attività investigative, anche di natura tecnica, sono state condotte dai finanzieri della Compagnia di Pozzuoli e hanno permesso di documentare l'esistenza di 5 strutture criminali operanti stabilmente nei comuni di Quarto, Marano, Melito, Mugnano e nel rione Sanità del capoluogo partenopeo. Le misure cautelari sono scattate nei confronti dei 13 indagati accusati a vario titolo di introduzione sul territorio campano di tabacchi lavorati esteri. Oltre alle misure cautelari personali, i finanzieri, all'esito di accertamenti economico-patrimoniali, hanno proceduto anche alle esecuzioni di sequestri di quota di tre società per via della sproporzione tra i redditi regolarmente percepiti e i dichiarati e il reale tenore di vita. Nel corso delle indagini, durate oltre due anni, sono stati complessivamente eseguiti 4 arresti domiciliari, 11 in flagranza di reato, denunciate 40 persone, sequestrate circa 5 tonnellate di sigarette. Veniamo alla Covid in Campania, cala la curva dei contagi e si accelera sui vaccini. La regione Campania è tra le prime in Italia, quindi tra le più virtuose, ma è emergenza a Barelli al pronto soccorso dell'ospedale del Mare, i primi segnali dell'arrivo del picco dell'influenza stagionale. Vediamo. Dopo giorni di curva in crescita si arresta nuovamente il numero dei contagi in Campania. Il rapporto positivi tamponi nelle ultime 24 ore scende al 9,65%. I positivi sono 619 su appena 6.411 test effettuati, 18 le vittime. Da segnalare il caso di Rocca Devandro, un paesino dell'Alto Casertano di appena 3.500 abitanti, dove si registra un boom di 90 positivi, molti dei quali avrebbero partecipato alla veglia e al funerale di un'anziana deceduta lo scorso 27 dicembre. Nel frattempo si accelera sui vaccini. La Campania è la quinta regione in Italia, con 10.745 vaccini somministrati al personale medico e sanitario, il 31,7% del totale di 33.870 dosi disponibili. In attesa che arrivi il secondo rifornimento del vaccino Pfizer-BioNTech, l'obiettivo è immunizzare tutto il personale ospedaliero e sanitario prima che arrivi il picco dell'influenza stagionale e la temuta terza ondata di SARS, che preoccupa e non poco gli addetti ai lavori. I primi segnali si sono già visti in questo fine settimana al pronto soccorso dell'Ospedale del Mare, dove si è verificato un boom di accessi con le tighe sistemate in ogni angolo e la difficoltà di separare i positivi Covid da quelli negativi. Anche per questo si attende di capire come si evolverà nei prossimi giorni la curva dei contagi per decidere il rientro in classe, il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, si prepara con una propria ordinanza da prima del 2021 a stabilire un calendario del ritorno a scuola in presenza, completamente diverso da quello immaginato e prospettato dal governo. Secondo le anticipazioni, in campagna le lezioni in presenza per la scuola primaria torneranno dall'11 gennaio. Il 18 gennaio, invece, sarebbe previsto il rientro in classe per gli alunni delle scuole medie, mentre solo a partire dal 25 gennaio si potrà tornare alla normalità per le scuole superiori. Torniamo a Napoli. Già nel 2018 c'era stato un primo allarme per l'arco borbonico, lo storico approdo sul lungomare che dunque poteva essere salvato. Più che l'ultima mareggiata, l'arco borbonico è stato piuttosto cancellato dall'incuria e dall'abbandono. Eppure si trattava dell'ultima testimonianza del vecchio porticciolo borbonico, ritratto in tanti dipinti della scuola partenopea. L'arco risaliva al Settecento e nacque come approdo per i pescatori, i cosiddetti Luciani, gli abitanti del vicino borgo di Santa Lucia. Ma successivamente, nel corso dell'Ottocento, fu trasformato in terminale dello scarico fognario, venendo ribattezzato dai napoletani o chiavicone. Da anni, abbandonato all'incuria e in equilibrio precario su una porzione di masso, l'arco era stato recentemente puntellato con dei tubi innocenti. Messo a dura prova negli anni da diverse ondate di maltempo, sono state fatali le ultime burrasche che lo hanno fatto crollare in acqua quasi per intero. E arriva la prima neve anche sul Vesuvio, è quella che si vede su larga parte del vulcano più famoso al mondo. Le nuvole che nelle prime ore della giornata coprivano il Vesuvio sono andate via mostrando una montagna in larga parte imbiancata dal nevischio caduto durante la notte. Nonostante il sole che illumina la città e che si trova nei dintorni del vulcano, le temperature risultano comunque rigide, generalmente più basse rispetto ai giorni scorsi. Nel giorno arancione di riapertura in Campania per molti negozi, file di persone in attesa per gli ultimi acquisti prima dell'epifania. Ma gli esercenti sono infuriati, ai nostri microfoni denunciano, non si può lavorare in questo modo. Vediamo. Aperture e chiusure a Singhiozzo, zona rossa, arancione solo per un giorno e poi ancora rossa, mentre il governo annunciò un nuovo DPCM. L'inizio dell'anno vede il commercio campano risentire fortemente di questa situazione di grande incertezza. Nonostante la gente si riversi a fare acquisti per approfittare delle riaperture, si contano i danni che per alcuni imprenditori cominciano ad essere irreparabili. Per me è stato un anno molto difficile, appartengo al settore del gioco legale. Sei mesi chiusi in un anno è una cosa insostenibile, siamo sull'orlo del fallimento. Dicono sinceramente, voi non dovete aprire più, io ho investito 250 mila euro, ad oggi mi ero risollevato, sto un'altra volta puntato a capo, a 50 anni, ho due figli. Ci vorrebbe anche un pochettino più di ragionevolezza e soprattutto di competenza nel decidere cosa fare, quando fare e come farlo. È chiaro che meno utenza c'è e meno si incassa. Per quanto riguarda il nostro settore sarebbe stato meglio programmarlo perché comunque i prodotti non sono continuativi, vanno con le stagioni, quindi non sai neanche cosa mettere a terra e cosa comprare. Poi le aziende dove noi ci forniamo comunque non è che ti fanno degli sconti, sono tutti multinazionali. Una confusione che scoraggia anche gli acquisti. Stop and go non va bene, credo che la situazione economica sia veramente difficile. Si vede, d'altra parte c'è molta, molta confusione e molta, molta incertezza. Tutte queste zone, questa variazione di colori, questa scelta del governo un po' bizantino ha creato confusione, non c'è una nettezza nei comportamenti per i cittadini, quindi non dà neanche fiducia nel poter spendere. Nel Sannio altre due vittime di Covid, una al Fatebene Fratelli e l'altra all'ospedale Sampio, tornano a crescere anche i contagi mentre si prosegue con la campagna vaccinale. Vediamo. Tre decessi nelle ultime 24 ore per il Covid nel Sannio. Si tratta di due pazienti dell'ospedale Fatebene Fratelli al Rione Ferrovia di Benevento e una persona ricoverata nell'azienda ospedaliera Sampio. Un trend, quello dei decessi, che purtroppo non accena a diminuire in provincia di Benevento, dove giorno dopo giorno sono sempre di più il numero delle persone morte a causa del virus. 176 decessi registrati dall'inizio della pandemia, 150 da agosto, di cui 117 persone residenti nel Sannio. Sono 48 invece i nuovi positivi su 93 tamponi processati. In pratica il 51,6%, percentuale altissima mai registrata prima. Sul fronte delle poche ma buone notizie sulla pandemia proseguono al ritmo spedito le vaccinazioni dei sanitari in servizio nel Sannio. Mantenere sempre alta la guardia e usare la mascherina è l'appello che arriva dal Presidente dell'Ordine dei Medici Sanniti. Non deve assolutamente la vaccinazione autorizzarci a non tenere più conto delle misure di distanziamento sociale. È un anno che lo dico, sarà diventato noioso, ma la battaglia noi la vinciamo con la mascherina e il distanziamento sociale. Questo è proprio l'avamposto della nostra battaglia. La dimostrazione è che quando ci sono stati dei momenti di parziale chiusura, non di avere proprio lockdown, l'indice di diffusione è subito sceso. Non appena si è dato la possibilità di maggiore contatto sociale, l'indice è subito aumentato. Sui vaccini però protestano i dentisti. Il Presidente nazionale degli odontoiatri, l'irpino Raffaele Iandolo, spiega la priorità va data a chi come noi è vicino ed è a stretto contatto con i pazienti. Vediamo. Dentisti e medici di base in attesa del vaccino è rivolta. Raffaele Iandolo, dentista vellinese, Presidente nazionale della Commissione Albo Odontoiatri, rincara la dose spiegando noi non sappiamo ancora quando saremo vaccinati. Noi lavoriamo per tempi prolungati sul nostro paziente, quindi arriviamo a degli interventi che durano anche delle ore sul nostro paziente. Essendo un paziente odontoiatrico e senza mascherina, noi lavoriamo di fatto a pochi centimetri dalla bocca del paziente. Quindi fatti salvi i reparti Covid e i reparti di anestesiologia e rianimazione che trattano pazienti Covid, che sono ovviamente la quasi totalità, fatti salvi questi io credo che dal punto di vista della valutazione del rischio subito dopo dovrebbero venire gli odontoiatri. Intanto Iandolo chiama il Ministro Speranza per assicurare un posto in prima fase per il vaccino a tutti gli operatori del settore odontoiatrico. Ho parlato direttamente con il Ministro della Salute Roberto Speranza, ho parlato direttamente con il Vice Ministro Pierpaolo Sineri di queste questioni. Entrambi ci hanno assicurato che nella fase 1, quindi nella fase iniziale, gli odontoiatri insieme al personale di studio saranno attribuiti alla prima fase per quanto riguarda la somministrazione dei vaccini. Intanto in Irpina sul fronte dei contagio arrivano notizie confortanti. Nelle ultime 24 ore solo 20 casi accertati. Da ieri è vuota la terapia intensiva del frangipane. Un solo decesso, quello avvenuto nelle ultime ore, si tratta di un 74enne di Santo Stefano del Sole morto al Moscati. Il Covid uccide ancora anche nel Salernitano. Morto in ospedale un 84enne di Eboli. Riesplodono i contagi in Corsia. L'Umberto I di Nocera è inferiore. 13 infetti tra gli operatori di chirurgia e ortopedia. Tre pazienti positivi al ruggi. Intanto a San Mango, Piemonte, l'associazione è nata dopo la tragica morte della 16enne Melissa, uccisa a scuola da un problema al cuore. Organizza tamponi rapidi per tutti. Vediamo. Risalgono i contagi nel Salernitano. Il Covid-19 torna a mietere vittime. Eboli piange un 84enne residente al Bivio Cioffi, morto all'ospedale Santissima Adolorata. È il 27esimo decesso nel comune. Di nuovo allarme all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dove nove operatori dei reparti di chirurgie, ortopedie e quattro di nefrologia sono risultati positivi al coronavirus. La direzione sanitaria ha dovuto sospendere momentaneamente i ricoveri nei reparti. Partite le sanificazioni. Continuano i contagi in corsia anche a Ruggi, di Salerno, tre i pazienti positivi, in neurologia, mentre prosegue la somministrazione del vaccino negli hub salernitani e protestano i medici di famiglia, inseriti nella lista al sesto posto, dopo i burocrati denunciano. Intanto a San Mango Piemonte l'associazione nata dopo la morte di Melissa Larocca, la studentessa sedicenne che si è spenta a scuola per una patologia cardiaca, ha organizzato la somministrazione di 50 tamponi rapidi alla popolazione, tutti negativi tranne quello di una ragazza già posta in isolamento domiciliare. Questa è un'iniziativa appunto che sorge in memoria al ricordo di Melissa per dare valore alla vita e alla dignità umana, ma soprattutto mettendo in evidenza l'altruismo, la solidarietà, per cercare di debellare la sofferenza e dare la speranza. E come ci ha insegnato padre Francesco, le lacrime, le lacrime anche di questi genitori che hanno perso la loro figliola, possa alimentare la tolleranza. Ad Avellino adesso in un anno, nel 2020, oltre 130 sforamenti di polveri sottili. C'è il problema dello smog che non accenna a diminuire. Questa mattina è partita la ciclostaffetta per misurare le emissioni in tempo reale. Vediamo. Con una partenza simbolica da Piazza Libertà è partita la ciclostaffetta che attraverserà i comuni di Avellino, Tripalda, Monteforte e Mercogliano fino ad arrivare di nuovo in Piazza del Popolo. Gli attivisti misureranno con la sella le polveri sottili. I dati li conoscete. Il 2020 è stato un anno molto particolare e molto negativo dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico nell'area vasta vellinese. Noi vogliamo consegnare ed elaborare questi dati e cominciare a proporre alle amministrazioni comunali collaborazione con Piava Avellino e con tutte le associazioni che oggi aderiscono a queste iniziative perché il problema dell'inquinamento lo risolviamo solo se tutti insieme sinergicamente lavoriamo nella stessa direzione. L'iniziativa è per sensibilizzare la popolazione ma anche l'amministrazione comunale. Sensibilizzare gli enti e le istituzioni a fare la propria parte su questo tema che diventa sempre più urgente e sempre più grave in quanto comunque di smog ci si ammala ogni giorno e si muore ogni giorno e pensiamo che comunque respirare aria sia un diritto di tutti e quindi è il momento veramente di fare qualcosa su questa tematica molto molto urgente e grave. I dati sono disponibili subito in tempo reale. Già adesso il sensore sta monitorando. In questo momento abbiamo una qualità dell'aria fortunatamente molto buona anche grazie alle condizioni meteo molto favorevoli a piovuto per tutta la settimana scorsa e quindi l'aria è particolarmente pulita. Vedremo nel corso della nostra strada se sarà così ovunque sicuramente sarà interessante vedere cosa verrà rilevato per esempio sulla nazionale quindi nella zona di Torrette o salendo verso Monteforte o riscendendo a Avellino in una fascia oraria diversa da quella in cui partiremo. Andiamo nel Sannio. È ancora polemica per il ponte Ufita che collega la frazione Scalonga al comune di Apice chiuso per cinque anni dopo essere stato pesantemente danneggiato dall'alluvione. In mattinata la struttura è stata riaperta ma il sindaco Pepe ha rifiutato di partecipare all'inaugurazione spiegando non intendo partecipare a nessuna passerella politica che altro non farebbe che alimentare la sfiducia dei cittadini nelle istituzioni. Lo devo ai miei cittadini con i quali ho condiviso i disagi e le preoccupazioni e lo devo a me stesso per la mia storia professionale istituzionale che ai tagli dei nastri ha sempre messo davanti la risoluzione definitiva dei problemi. Secondo Pepe infatti l'opera è ancora incompleta e l'apertura è solo parziale, ridotta al traffico leggero e condizionata a una bassissima velocità. Uno sciopero della fame per tutelare i diritti dei detenuti e dei meno fortunati la protesta avviata da Donato Salzano, esponente salernitano del partito radicale che ha rivolto un appello al sindaco di Salerno. Sentiamo. Un digiuno di dialogo è proposta per far valere i diritti degli ultimi Donato Salzano, militante salernitano del partito radicale. Ha avviato una protesta simbolica per dare voce ai meno fortunati e ai detenuti della casa circondariale di Salerno. L'appello è rivolto alle istituzioni, in particolare al sindaco di Salerno Vincenzo Napoli affinché ci sia più attenzione per i meno fortunati e vengano subito distribuiti i buoni spesa Covid. I detenuti che non hanno più né i pacchi né le visite dei familiari in questo periodo di Covid non hanno che cibarsi. Presto Napoli, faccia presto sindaco Napoli. Ti chiedo per cortesia di accelerare i tempi del signor burocrate perché loro non possono aspettare. Voglio riservare un ultimo appello a sua eccellenza il monsignor Belandi, l'arcivescovo di Salerno. Sua eccellenza, queste donne, questi uomini della comunità penitenziaria di Forni sono scartati. Salzano inoltre ha invitato quanti vorranno unirsi alla lotta con il digiuno a comunicargli via mail la loro adesione al fine di rendere più incisiva la protesta. Io chiedo al sindaco di Salerno, con forza, entro l'epifania di fare visita alla casa circondariale per sincerarsi non tanto quanto sindaco, ma quanto massima autorità sanitaria in città dello stato delle donne e degli uomini. Minaccia l'ex moglie e il figlio e spacca mobili con un martello. Un 44enne arrestato per maltrattamento e danneggiamento dai carabinieri della stazione di Cicciano in provincia di Napoli insieme a quelli della sezione radiomobile di Nola. Allertati dal 112, i militari sono intervenuti presso l'abitazione della ex moglie. Poco prima, in stato di ebbrezza e davanti al figlio, 23enne, il 44enne aveva spaccato alcuni mobili della cucina con un martello, insultando e minacciando i familiari. Secondo quanto ricostruito dai militari, eventi di questo tipo erano all'ordine del giorno ed erano già stati denunciati. Ad Avellino, gli operai della Novo Legno ritornano davanti ai cancelli della fabbrica di Piano Dardine per chiedere al proprietario Fantoni di abbandonare definitivamente l'Irpinia e dare la possibilità ad un altro imprenditore di investire. Vediamo. A quasi un anno dalla chiusura della Novo Legno del gruppo Fantoni, gli ex operai questa mattina si sono ritrovati di nuovo davanti ai cancelli di Piano Dardine per lanciare un appello alle istituzioni. Chiedono a gran voce che lo stabilimento ormai chiuso venga smantellato e dunque chiedono che Fantoni lasci l'area della fabbrica in modo da poter dare la possibilità a un nuovo imprenditore di poter investire e offrire posti di lavoro. Deve lasciare il capannone perché ci possono essere anche nuovi imprenditori che possono investire e dare lavoro a quelle persone che oggi stanno ancora in mezzo alla strada. Quest'area deve essere pulita, la devono lasciare perché c'è qualche altro imprenditore che vuole dare 80-90 posti di lavoro e noi ci salviamo, sono 80-90 famiglie che possiamo salvarci. Purtroppo noi non siamo la Whirlpool, non abbiamo questo potere, siamo solo 117 persone, quindi non siamo tantissimi, però questo non vuol dire niente, non siamo operai di serie B, quindi noi abbiamo cercato l'aiuto di tutti, tantissime persone sono venute a fare la passarella qui giù, davanti al comune di Montefredene, tantissimi schieramenti politici, però ad oggi nessuno ha fatto niente di concreto per noi. La Naspi per dipendenti purtroppo sta per terminare e quindi l'appello si fa ancora più accorato. Io non posso più mandare mio figlio all'università e tantomeno l'altro più piccolo devo chiedere a un amico da portarla a Tavellino, perché neanche l'abbonamento posso fare con 700 euro al mese o 600 euro al mese, perché il 3% ogni mese viene scaricato dalla Naspi. I ferrovieri di Benevento impegnati in un momento tutto dedicato alla solidarietà. Questa mattina in deposito è arrivato il treno dell'Epifania con giochi e dolcetti per 50 bambini. Vediamo. 50 bambini meno fortunati avranno una calza e un regalo da scartare grazie al gesto di solidarietà messo in campo dai ferrovieri sanniti. I lavoratori dell'ex deposito locomotive di Benevento hanno raccolto fondi e donazioni per comprare giocattoli che questa volta non arriveranno sulla scopa della Befana ma sul treno dell'Epifania. È un segnale di ripartenza. Noi con questo atto vogliamo mettere in piedi una solidarietà perché dalla pandemia si esce anche con queste azioni. Logicamente bisogna pensare a chi è più debole, bisogna stare vicino alle famiglie più in difficoltà e bisogna riflettere perché noi ultimamente siamo bravi solamente a puntare il dito contro gli altri. A ricevere i doni la Caritas, la parrocchia del rione Ferrovie e l'assessorato ai servizi sociali del comune di Benevento che consegneranno i regali ai bambini meno fortunati. Loro ogni anno festeggiavano le festività attraverso una cena che facevano tutti quanti insieme e quindi si autotassavano per fare una cena, un pranzo e farsi gli auguri. Quest'anno hanno pensato, in virtù del Covid, di fare questo gesto che è un qualche cosa di unico e che premia così in modo forte la famiglia dei ferrovieri. Poi peraltro sono dei giocattoli che sono un po' a tema con le ferrovie. E con questo chiudiamo il nostro telegiornale. In regia Aldo Fenizia, grazie per averci seguito. Arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.